Non la guardo, a me non interessa né guardare la classifica, io ho un obiettivo principale che è quello di arrivare là davanti a tutti, perciò mi concentro solamente in quello, poi se arrivano risultati importanti anche dagli altri campi sono contento, però a me interessa che la mia squadra produce, che la mia squadra gioca a calcio e che possa fare divertire la gente. Una cosa che lei oggi ha visto in senso positivo, le riusciamo ad estrarre? Un paio di cose? Che giocata bella c'è stata, però non è quello il mio modo di vedere il calcio, io ho bisogno di gente che abbia personalità, pure se la gente contesta non abbia paura, che è la cosa principale quella, per vincere questi campionati bisogna avere la personalità sia in casa che fuori. Adesso deve lavorare sotto l'aspetto mentale? Io lavoro durante la settimana con grande tranquillità perché so quello che faccio, perciò la cosa è farglielo capire ai giocatori che sono gli attori principali che vanno loro in campo, perciò quando non sono contento significa che hanno fatto le cose al contrario di come ho detto io.